A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Io mi chiamo Nunziata. N, U, N, Z, I, A, T, A. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, siete, otto, nove, dieci. Undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento. Io ho i ventidue anni. Io sono. Tu se Lui le è Noi siamo Voi siete Loro sono Io ho Tu hai Lui le ha Noi abbiamo Voi avete Loro hanno Noi Noi Grazie a tutti